Amici miei, bentornati in un nuovo episodio su Brawl Stars, ovviamente con Joseph the Gamer. Ciao a tutti ragazzuoli e oggi userò pure un nuovo personaggio per te. Di lusso, signori, oggi Joseph utilizzerà Shelly, mentre io andrò con Corvo, il mio personaggio preferito, con una skin meravigliosa. Prima di cominciare, ricordatevi un bel pollicione all'insù per supportare questi video e nei commenti diteci qual è il vostro brawler preferito. Caro Joseph, vorrei provare la Basket Brawl, una modalità a cui non ho mai giocato. Ok? Mo' vediamo che combiniamo qua dentro. So che c'era il calcio ed era molto divertente, immagino infatti che il basket sia una modalità molto simile. Ma il canestro si muove? Ma sono massi, braw? Mi hanno disintegrato. Bro! Ma pure a me. Ma perché non sei andato? No, sono vivo, sono vivo. Zitto, zitto, zitto. Bravo, bravo, meno male che sei vivo, bro. Copritemi, copritemi. Oh, questo mi lancia roba. Allora, io sto provando ad avvelenare. Allora, aspetta, devo passare. Passamela, passamela, passamela. Aspetta. Aspetta, attivo lo scudo. Attivo lo scudo e pusho. Wow, fra mano, distrutto, la palla è nell'angolo. Ma l'ho spaccato. Oddio, ma la torretta sotto il canestro è sbagliatissima. Me la sono andata a prendere questa. Vai, vai, Giuseppe. Come si fa a lanciare la palla, Fra? Eh, come quello con cui spari. Mannaggia la miseria, ma come quello con cui sparo? Eh sì, il Giuseppe. Vattela via, bro, lanciala, lanciala pure. Provo il tiro da tre. Eccolo! Tiro da tre. Mamma mia! Lebron James, incredibile. Quello è così. Oddio, oddio. Eh no, bro, però non posso pusciare con il corvo. Calma, calma, bro. Bravissimo. Lo distrutto. Bro, sei stato bravissimo. Spaccato totalmente. Ma quello ha messo la torretta sotto a noi. Non importa, bro, sei stato bravo. Non ce l'ha fatta, va benissimo, goto per sempre. Occhio che questo è usato. Oh, ma questi ci vengono fino a casa, spaccato. Sì, sì, ma peccato che gli ha detto. Ma chi è che ha fatto gol? Ma quello ha segnato quello che sta con noi, bravo. Che secondo me se ne è accorto. Ma quello sta con il grandissimo. Bravissimo. Bravissimo, tra l'altro. Mamma mia. Non c'è più a questa palla, vado io. Vabbè, la presa a lui. Facciamo andare a lui che è bravo. Vediamo. E tira la però. Oh, oh. Eh no, è niente, è uscita. Dai, 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 dai. No, è uscita, è uscita, bro. Che c'è però, sai. Ma questo lo spacco. Bravo, Giuseppe. Mi piace quando dici lo spacco. Attenzione. Prova il tiro, Corvo. No, Mirko, no. No, 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 no. Bro, mi uccide. Bro, mi favore, aiutami. Via, 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 via. Distrutto? Ok, bravo. Vabbè, ce l'abbiamo fatto. Bro, con la ultima 3. Eccolo. Mamma mia, che scarso che so, Giuseppe. Aspetta, aspetta. Eh no, Fra, qua sono troppi. Ma sono troppi. Va, 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 tranquillo, 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 tranquillo. Che ci siamo. Mamma mia, stanno qua. L'ho provato ad allontanare, ma... È un po' difficile, eh. Tranquillo, Giuseppe. Uno l'ho eliminato, l'ho eliminato, ma non ha fatto l'amico. Molto bene così, molto bene, molto bene, tranquillo. Eh, forse è meglio mantenere... Vabbè, la difesa, ma tanto abbiamo vinto, Fra. Perfetti, Giuseppe, perfetti. Io diciamo che ho difeso bene. Molto bene difeso. Ma buono pure l'altro tizio che sta giocando con noi. Fra, non me lo sarei aspettato da lui perché ha segnato una... No, vai su, gioca ancora, va, metti, gioca ancora. Ah, vai, vai, magari giochiamo con lui. Sì, infatti lui ha messo che voleva giocare di nuovo con noi, si è trovato bene. Va bene, va bene. Solo che non so se magari la tua camp dà fastidio al... No, non dà fastidio in realtà, si vede il campo perfetto. No, 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 non copre. Va bene. Concentriamoci di nuovo, eh, perché sennò... Certo, magari Corvo non è proprio il personaggio adatto per questa modalità, però... Vabbè, vabbè, però l'abbiamo vinta fino a mo'. E quindi ce ne possiamo uscire sempre in qualche modo. Ok. Io sono messo proprio... Cioè, sto per fare una brutta fine serie. Non mi ha messo la cosa, mannaia. Buttai la giù, Giuseppe. Non ci voleva, non ci voleva. Manca un ultimo colpo, va bene. Pazzo, quello ha provato, pure attiratevi di... Bro, li ho distrutti. Vai, prendila, prendila e passa. Vado, vado, vado. Passamela. Hai dato lui, ce l'ha lui, proteggiamolo. Facciamo tutto per questo. Ma non lo fa! Vabbè, dai, però. Bro, ma la devi passare in questo gioco. È arrivato troppo lungo. Dai, dai, però, quello... Mannaggia a me quando ci abbiamo giocato, bro. Eh, niente. Ho dimenticato di attivare lo scudo. E guarda che ci fanno... Ma, ma che ha fatto? Come c'è arrivato fino a qua? Eh, bro, c'è arrivato. Mannaggia, miseria, mannaggia. Questi occhi, non c'hanno paura. Ma la palla ce l'ho io, prova ad andarmene da quest'altro lato, ma questo mi sta inseguendo. Ho lanciato. Ho lanciato proprio all'avversario. Mo' segna? No, fortuna. Fuori. Meno male. Acchiappa la bro. Vattene per fischi e per fiaschi. È impossibile, bro, ma... Ah, no, no, no. Vai, bro, fusha. No, la ultima, gliela da vicino. Eh, dopo sta più vicino, hai ragione. Che li disintervi. Ah, mai siete, siete in tanti, mo' lì per il momento. Eh, sono in tanti, ma se ancora non mi difende, chissà che sta facendo. Mannaggia a noi e quando abbiamo deciso di giocarci. L'ho spaccato. Eh, Fra, ma sono solo. Quest'altro, ma la lancia, per fortuna l'abbiamo fermato. Solo che mo' non so come voglio fare. Proteggetemi un attimo, se riescono a questo mi distrugge. Beh, questo ha tirato la... No, non era la ultima, mi sa. Dobbiamo... Ma si è fermato? No, ma perché non gioca più? Ma perché? Se non stai giocando più. Vabbò, Fra, ma se n'è andato proprio, no? Non l'ho capito. Non sta giocando. No, ma mostro di giocando. Eh, ho capito, però... Cioè, è stato bravissimo nella partita di prima. Mo' zero voglia, zero convinzione. Allora. Vai, passamela. No, niente, vai tu, vai tu, vai tu. Eh, ormai te l'avevo passata. 16 secondi per provare a pareggiare, eh. 2 a 0, non è tantissimo. Eh, basterebbe... Basterebbe un'unica possibilità. Aiutami, aiutami qui. Ci sono, ci sono. No, non ci credo. No, non ci credo. Ha segnato all'ultimo. Bro, ha tirato a cassacissimo, quei... Ha vinto gli ultimi due secondi, perché noi potevamo recuperare qua. No, bro, abbandona subito sto somaro, perché sei proprio un somaro. Che non passa mai la palla. Via, 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 via. Fuggi, fuggi proprio. Ma la prima partita mi era piaciuto pure, invece, mo' niente. No, no, proprio vergognoso. Vai, rimetti pronto e riproviamoci di nuovo questo basket. Mi piace. Sono sincero, mi piace questa modalità. Però va giostrada bene, bisogna andare con un minimo di strategia, eh. Perché no... Sì. Zero. Ma io, ma io sembro proprio... Boh, sembro decolorato. Occhio ad Ems, eh, occhio a Ems. Allora. Quello, purtroppo, Fra, riesce a colpire dall'alto. Questo poi vada solo, totalmente, senza difese, senza paura. Un pazzo scatenato. Se posso caricare da ulti... È andato proprio da solo quello. Io ho il personaggio sbagliato, perché sta modalità. Ma quello che sta facendo, che sta caricando. È una ulti. Immaginavo, bravo. Bravo. Bravo Gelindo. Veramente top. No, si chiama Gelindo? Non mi ricordo come si chiama lui. Occhio. No, ha distrutto. Ah, ma loro c'hanno uno che non sta giocando. Ma buono. È godo tantissimo. Perfetto. Qua, segniamo noi a sto punto una qualcosa, se riusciamo. Scusi. Ma non mi fra, ma li distruggiamo. La palla dove? Che era lui. Ah, se ne stanno andando per fisica. Eccolo qui. Corvo Lebron. Corvo Lebron. Prova il tiro. Incredibile. Partita conclusa, così. È finita. È finita prima del tempo. 5-0. 5-0 tutti a casa. Ma ne vogliamo fare un'altra? Mi sono preso bene. Speriamo che non ci dia uno che fa i cavoli suoi. Eh, rischio c'è. C'è sempre, sì. Però ripeto, regà. Corvo non è un buon PG per questa modalità. Sei solo. Eh beh, lui ci ha provato. Non ero io, eh. Ah, pensavo fossi tu. No, no, no. Beh, diciamo, è stato coraggioso. È stato coraggioso, mi è piaciuto. Ma al momento la palla, chi ce l'ha? Ah, ce l'ha quello nascosto là dentro nelle frasche. Totalmente distrutto e devastato. Ma che ha fatto? No, ho sbagliato io qua. Se me la vuoi passare, ma... Trovo il tiro da tre. Che cosa fa? Giuseppe! Giuseppe che tiro da tre ho fatto, bro! Sei un pazzo. No, tu sei pazzo proprio. Corvo Curry! Corvo Curry! Venite nelle mie termopili. Venite. Distrutto. Bene, bene, bene. Vai, Giuseppe. Spacchiamo. No. Vai, 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 vai. Tira. No. Vai, Giuseppe. La palla dov'è? Piegliala tu, bro. Ce l'hai tu la palla. No, no, ce l'ha lui. Era dietro di te. Occhio che non va dentro, eh. Vai, Giuseppe. Aia, mi hanno distrutto. Giuseppe, occhio. Devi entrare in aria, eh. Devi entrare in aria. No, Giuseppe, ma che... No, Fra, ma questo mi sfancula proprio. Va per fatti su e non la so tirare. Quindi te la devo sempre passare e basta. Però hai fatto un tiro incredibile prima, Fra. Se me la passa? Capisce che te la deve passare? No, non me la passa. Ma che fa? Perché si è fermato? Eh, ma non me la passa, bro. Però va bene così. Ha fatto punto. Ha fatto punto. Ah, conclusa. È vinta, Fra. Azz. Bro. È capita un giappone. No, non è giappone. No, non è giappone. Ma, bro, quel tiro da tre mi ha emozionato letteralmente. Anche perché ero sicurissimo che andasse fuori. Sono sincero, non è per sfiducia nei tuoi confronti. Però ho detto, vabbè, questa va fuori. Invece è così. Il colpo diventa infiammato. Non ho capito che roba era, però ce l'hai fatto. Attenzione, bro, lampeggia. È dietro di me, voi non lo vedete. Gadget. Nuovo Brawler. Energetic. Che culo, regà. Ma così, live durante il video. Ma veramente? Bro, sì. Boys, grande episodio per questo giro su Brawl Stars. Mi raccomando, supportate questi video se ne volete. Ovviamente altri con Joseph the Gamer. Ciao. 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 Ciao.